Si avvicina la sfida di domenica a Montegranaro, una partita molto sentita nella quale gli amaranto celesti giocheranno tutte le possibili carte. Del resto, proprio contro Montegranaro in casa è stata disputata una delle partite più belle dell'anno. Due gli aspetti che riguardano il prossimo match, la classifica e il tifo. La vittoria significherebbe un primo posto assoluto e stagione regolare come nei play-off. Certo, la gara non sarà facile, dichiarano dal campo. Il Montegranaro incontrato qualche tempo fa in casa è cosa ben diversa rispetto ad oggi. Non si deve dimenticare l'innesto del playmaker Alessandri che ha stravolto tutta la formazione. E poi c'è la tifoseria che da sempre vive, da un punto di vista solo ed esclusivamente agonistico, l'incontro-scontro con questa squadra in maniera forte e con l'attesa di una vittoria. Quindi tutti pronti e ben concentrati per domenica. L'unica incognita rimane Benedusi e la scelta di metterlo in campo o meno, ma questo dipende dalle condizioni fisiche e quindi anche dallo staff sanitario. Comunque, conclude il coach Nuzzi, noi andiamo per vincere. Giochiamo per superarli anche perché in vista dei play-off giocare al Palace Journal con un certo ambiente può fare la differenza.